Non intendo suicidarmi, per carità, no, per nessuna ragione lascerei in famiglia questa macchia infamante. L'uomo sa che deve morire e che non c'è niente da fare. Sa pure che non può rimandare la morte, e questo è vero, ma sa con certezza che quando lo hanno ridotto a vivere come un albero e lui accetta, si mette a vivere come un albero sdraiato su di una poltrona a leggere libri e giornali. La fine non può essere lontana, di libri e di giornali si può morire.